Beh, allora, intanto complimenti. Sarà un amichevole, però due gol sono un bel segnale per Mandorlini. Sì, è stata una bella amichevole contro una squadra importante, comunque una squadra svizzera importante. E niente, abbiamo fatto questa amichevole vinta 5-1, dove è andata bene. Sono segnali positivi, stiamo lavorando tanto, abbiamo lavorato tanto questa settimana, e quindi è stata una bella partita, dai. Stai lavorando tanto anche tu, Mandorlini, hai ci raccontato che fa un lavoro specifico con te oggi, da mezz'ala, ti sei trovato più che bene. Sì, il mister mi dà molti consigli, mi sta adattando lì da mezz'ala, è un ruolo che ho fatto poco nella mia piccola carriera, però niente, lo sto cercando di fare con il massimo impegno, con la massima dedizione, e ascoltando tutti i consigli che mi può dare il mister e mi possono dare i miei compagni. Dopo l'assaggio di Serie A all'Olimpico con la Roma, ce l'hai un obiettivo, insomma, quando è che vorresti scendere in campo facile con la Fiorentina? No, ora, questo è quello che desidero, credo che sia il desiderio di tutti, però bisogna vedere come stanno i fatti, quindi lavoro, lavoro al massimo per cercare di mettere in difficoltà il mister, e niente, cercherò di rifare un'altra partita come ha fatto all'Olimpico. Ci dici com'è il trio Saviola, Lopez, Tony, visto dal campo, insomma, un trio di cui si parla tanto? Ma è un trio che ha qualità, non sono io a dirlo, è un trio che in campo si trovano alla meraviglia, e poi in campo decide il mister e quindi sono scelto che fa il mister. Dove ti trovi meglio a giocare? Trequartista, esterno largo davanti, come oggi mezzala? Ma il mio ruolo naturale è dietro le punte, poi mi adatto anche da mezzala, dove lo sto cercando di imparare nel miglior modo possibile, che è quello che il mister mi sta cercando di dare come ruolo. Faccio anche l'esterno alto, e niente, dove mi mette il mister io cerco di dare il massimo. Avete già la Fiorentina nel merino? Sì, stiamo lavorando, abbiamo lavorato tanto questa settimana a livello fisico, perché è una settimana dove si può caricare, e niente, la settimana prossima, da martedì, cercheremo di studiare la Fiorentina e andare in campo nel miglior modo possibile. Quando sei venuto qui a Verona, sinceramente, ti aspettavi qualcosa in più a livello personale? Ma no, io sono arrivato qua da promessa, è quello che mi è stato detto, è quello che sapevo, e ho cercato sia dal primo giorno di dimostrare il mio valore, e credo di averlo fatto negli allenamenti. Poi, sarò qui a dire che meritavo di più, volevo di più, non sono io proprio qua. Se non è stato fatto, ci sarà un motivo. Quindi cercherò di lavorare sempre nel miglior modo possibile, ancora di più, e cercare di mettere in difficoltà l'allenatore. Gran gol comunque il secondo, quindi hai dimostrato di vedere anche la porta, di andare via in dribbling, di avere qualità. Ma il segnare è sempre bello. È una bella emozione comunque fare questa doppietta in quest'amichevole, è stato bravo Nenea a darmi quel pallone, e poi ho tribulato il portiere e ho fatto gol, dai. C'era anche più le tue emozioni dell'esordio all'Olimpico, perché insomma esordiere a Roma, contro la Roma, il giorno del compleanno fatta l'età di Totti, che c'era un Olimpico gremito, so che tua mamma poi ti ha fatto un bellissimo collage, con tutte le foto appunto del tuo esordio, insomma ci racconti le tue emozioni. È stata un'emozione unica, fino all'ultimo non me l'aspettavo proprio, poi quando mi ha chiamato il mister a dire devi entrare, neanche me l'aspettavo. Era stato un mix di emozioni, di felicità, tutto insieme. È quello che mi auguro di fare più partite possibili, e poi rientri ringrazio la mamma per il gran collage che mi ha fatto, è una persona che mi ha aiutato molto nel mio processo di crescita, e niente, tutto qui. Poi è un tifoso speciale che è tuo fratello, che ti segue sempre, tu hai un grandissimo rapporto con lui, ti chiedo, papà Ladino, che insomma noi abbiamo apprezzato qui anche come giocatore, cosa ti ha detto? Papà è uno molto tranquillo, papà è uno che mi dà consigli a livello tattico, tecnico, soprattutto sul campo, è quello che mi può dare, perché comunque ha fatto i suoi vent'anni di carriera, l'ha fatti, quindi io apprezzo tutto quello che mi dice, l'ho sempre ascoltato, e quindi papà sotto quell'aspetto mi sta aiutando molto, e poi ho un ottimo rapporto anche con lui. Ci fai un bilancio di questo Verona, insomma si è parlato tanto di quelli che sono gli obiettivi, del cammino fino ad adesso, tu da dentro come lo vedi? Ma è una squadra giovane, è una squadra che è cresciuta molto dall'inizio della stagione, è una squadra nuova, è cambiato quasi più della metà della Rosa, e niente, è una squadra giovane che ha voglia di crescere un gruppo molto unito, e quindi credo che abbiamo dimostrato fino adesso di che passo siamo fatti.